Musica Apriamo la nostra pagina di sport e cominciando a parlare di calcio in Serie D, il Brindisi affronta domani in trasferta il Nardò con l'obiettivo di restare agganciati alla zona playoff. Il Martina che ospita al Tursil Francavilla sul Sini deve incassare la pessima notizia delle cinque giornate di squalifica combinate dal giudice sportivo al bomber pitch. Vediamo. Tutto pronto per il derby che potrebbe segnare la definitiva svolta in positivo per il campionato del Brindisi. Domani pomeriggio la squadra di Mister Maiuri è chiamata ad affrontare in trasferta il Nardò guidato da Mister Longo. Avversario certamente alla portata dei Biancazzuri, pronti a scendere in campo con l'obiettivo di confermare la striscia positiva dei risultati che ha portato il Città di Brindisi nuovamente nella scia dei playoff. Buone notizie giungono dall'infermeria. Mirko Guadaluppi è recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata dopo appena un quarto d'ora della gara di Piscinola e negli ultimi giorni si è regolarmente allenato con i compagni. Qualche dubbio invece per Vincenzo Chianese alle prese con un problema al muscolo semitenindinoso e anche lui uscito anzitempo nel match contro il Campania. Il medico sociale, dottor Carlo Milani, ha predisposto un programma di recupero di tre giorni che il giocatore ha completato questa mattina per valutare le possibilità di impiego nella trasferta di domani. Fermo infine Stefano De Padova, afflitto da una lombagia. Il dardo calcio, dopo un avvio da prima della classe, ha inevitabilmente risentito di una pesante crisi societaria che ha creato fatali contraccolpi sul piano organizzativo e tecnico. Oggi il vantaggio sulla zona pericolosa della classifica in vista della salvezza resta per i ragazzi di Mister Alessandro Longo piuttosto rassicurante. Tuttavia, il Toro si vede costretto ad abbandonare ogni velleità di playoff. Dal Brindisi al Martina, che alla vigilia del delicato match casalingo di domani contro il Francavilla sul Sinni, ha dovuto incassare la mara pillola della squalifica di cinque turni, combinata dal giudice sportivo al bomber Pici per il rosso diretto rimediato nei minuti di recupero nella gara di domenica scorsa contro l'Inter Napoli. La società, che nel frattempo ha provveduto a sanzionare il giocatore per l'accaduto, ha già inoltrato ricorso. Intanto, però, le attenzioni devono necessariamente rivolgersi all'incontro di domani contro il Francavilla. Un match da vincere per restare agganciati a quella vetta della classifica attualmente occupata dall'Ischia e dalla quale il Martina dista un solo punto. Il campionato di eccellenza manda in scena la ventiseiesima giornata. Il Francavilla di mister Favonio affronta in trasferta domani pomeriggio alle 17 in Manfredonia. Una partita difficile, ma che il Francavilla deve necessariamente sfruttare per portare a casa un risultato positivo, così da garantirsi altri punti salvezza. Impegnativo anche il confronto che chiamerà il Fasano in trasferta sul campo del Racale, squadra che all'andata inflisse una sonora sconfitta in casa ai Biancocelesti, grazie ad anche un Marini superlativo. Mister De Fuoco potrà contare sul rientro di Capitano Pistoia, chiamato a sostituire lo squalificato Valentini. A posto dell'altro, squalificato Ventura, in avanti giocherà Brescia, mentre a centrocampo dovrebbe essere schierato Martellotta. La presentazione del match dalla voce di Mister De Fuoco, intervistato da Michele Cavallo. Le prossime due gare, due impegni cruciali. La trasferta a Racale, un Racale che sta accusando notevoli problemi dal punto di vista societario e quindi anche di organico, eccetera, e poi Vieste. Ma io non credo che siano davvero dei problemi a Racale. A Racale succede quasi sempre la stessa cosa ogni anno. Poi si va a giocare là e non riesce a portarti via neanche un pugno di sabbia. Io credo che il Racale domenica se la giocherà tutta per venire al risultato positivo, perché vuole continuare questa speranza di pervenire ai play-off. Per noi la partita di Racale sarà sicuramente difficile, ma la partita più difficile, la partita dell'anno, sarà quella a Vieste, dove ci giochiamo la vita sia noi che il Vieste. Tale eccellenza facciamo un lungo salto in Serie A al microfono di Agnese Poci, l'allenatore del Lecce, Serse Cosmi, ospite in questi ultimi giorni delle cantine Due Palme di Cellino San Marco. Parla della difficile e delicata sfida di domani contro il Milan capolista. Vediamo. In occasione della sua visita a Cellino San Marco, l'allenatore dell'Unione Sportiva Lecce, Serse Cosmi, ha parlato del campionato italiano e dell'impegno dei giallorossi di domenica sul campo di San Siro contro il Milan. L'andata a Via del Mare fu uno spettacolo difficilmente ripetibile. Così ha risposto Cosmi sull'analisi della sfida contro la squadra di Allegri. Una partita ovviamente difficilissima come lo saranno le altre da qui alla fine, anzi forse sotto l'aspetto mentale è la più semplice, perché sai di dover affrontare una delle migliorotte squadre d'Europa, in questo momento la capolista nel nostro campionato, quindi abbiamo tanto da guadagnare e pochissimo da perdere. E a chi gli chiede quale squadra preferisce tra Milan e Juve come vincitrice del campionato risponde così. Fino a 20 giorni fa dicevamo che la Juve era favorita, poi un paio di pareggi fanno pensare diversamente, io credo che più o meno se la giocheranno alla pari. Noi abbiamo la fortuna di affrontarle perché poi è sempre sportivamente una bella cosa, la sfortuna perché poi sono due avversari con le quali sarà difficile far punti, però magari dopo che abbiamo incontrato tutti e due vi dirò chi ha più possibilità, però mancherà pochissimo perché la Juve la affronteremo a tre giornate dalla fine, quindi sarà più semplice dirlo. Dal calcio al basket in Lega 2 l'Enel Brindisi affronta in trasferta Reggio Emilia, la domotecnica Ostuni ospita invece la Sigma Barcellona ai servizi di Lili Mazzone e Danilo Santoro. Brindisi ha la conquista di Reggio Emilia e questa è la nuova missione del 10 Biancazzurro in partenza nel pomeriggio alla volta della ridente città romagnola. Sull'argomento coach Bucchi non ha alcuna esitazione, andiamo al Reggio per vincere e se questo non dovesse accadere saremo attenti a difendere la differenza Canessi conquistata al pala Pentassuglia di 4 punti. Sulle ali dell'entusiasmo della Coppa Italia conquistata in forte emergenza e fortuni, Brindisi si prepara a cavalcare la fase finale del campionato e a sfruttare la preziosa occasione del Palabigi che le spalancherebbe ottime chance per la promozione diretta. Domani pomeriggio Bucchi potrà schierare Alex Renfro seppur non al massimo della condizione, mentre il trastello Ndoia è ancora in via di definizione sfumata anche la possibilità di reclutare Simone Pieric nel suo stesso ruolo. Non se la passa meglio in tal senso la Trenkwalder, Sirena cese per il pre bianco-rosso Dwayne Robinson che in settimana ha riportato una contrattura ed è stato costretto a saltare i primi allenamenti. Una tegola pesante che casca sulle spalle del sudalizio romagnolo in un momento molto delicato, conciso con i due stop consecutivi a Scafatti e Frosinone con i problemi di infermeria di Slalina e Cervi e il luto che ha colpito Filloi. Brindisi e Reggio Emilia arriveranno al big match in condizioni psicofisiche molto diverse. Il club pugliese ha confermato la forza del gruppo, conquistando la Coppa Italia senza due pedini importanti del roster. Reggio si trova invece a dover reagire alle due sconfitte esterne consecutive e all'incognita cabina di regia, posto che Robinson non sarà della gara. Ai bianco-rossi, avendo già osservato il turno di riposo del girone di ritorno, resta una partita in più per cercare di conquistare il primo posto al termine della regular season. Attesi sugli spatti del Palabigi quasi 500 tifosi brindisini. La Trickewalder non vorrà essere da meno e fornerà domenica ai tifosi bianco-rossi diversi strumenti per aumentare il rumore, il colore e la passione dei suoi senatori della pallacanestro reggiana. Arbitreranno l'incontro Roberto Pasetto, Andrea Masi e Fabrizio Conti. Palla 2 alle ore 18.15. Davide contro Golia, la matricola contro la Corazzata. Il campionato di Lega 2 torna in campo dopo la Final Four disputata a Brindisi, che ha visto trionfare l'Enel Basket Brindisi. E per la domotecnica Ossuni domani sera, il ritorno sul parchè del Palapentassuglia coincide con una gara tutt'altro che semplice contro la Sigma a Barcellona. La grande favorita alla vigilia del torneo, che vive una fase della stagione con poche certezze e mille interrogativi sul proprio futuro. E sì, perché il quintetto siciliano, fino a questo momento, ha deluso le attese di una stagione che si prefigurava come quella dell'approdo in Lega A, ma che invece al momento ha regalato tante amarezze e poche soddisfazioni ai tifosi messinesi. Non è bastato infatti un roster di primo ordine al presidente Bonina per primeggiare in classifica. Ed a pagare per tutti, alla fine, come spesso accade nello sport, è stato il coach Cesare Pancotto, dimissionario, dopo l'ennesima sconfitta casalinga contro Verona, datata il 26 febbraio scorso. Al suo posto, da 15 giorni, Stefano Vanoncini, già secondo dello stesso Pancotto, che sarà coadiuvato fino al termine della stagione da Giuseppe Condello. La coppia ha fatto il suo esordio sulla panchina della Sigma, vincendo il recupero a Forlì, due punti utili soprattutto a consolidare la propria posizione nei play-off, con l'obiettivo primo posto già sfumato da tempo. Per il giallo blu di Franco Marcelletti, impegno così difficile, sia per il valore degli avversari, sia per le motivazioni degli atleti siciliani. L'omotecnica le prese con gli infortuni di Carenza e Klobuchar. Per entrambi, l'ultima decisione verrà presa qualche ore prima della gara. Palla a due alle 18.15. Arbitri, i signori, Pascotto e Migotto di Venezia e Baldini di Firenze. Chiudiamo con il volley. Nel campionato femminile di A2, la Cedat 85 San Vito è chiamata al confronto con il Rota Mercato San Severino. Il punto di Raffaele Romano. Dopo lo scivolone casalingo dell'altro sabato, la Cedat 85 San Vito torna al cospetto del proprio pubblico e lo fa per affrontare nella gara valida per la settima di ritorno della Serie 2 il Mercato San Severino, altra diretta concorrente nella lotta per la permanenza. Le campane che all'andata si imposero al tie-break giungono a San Vito con il dichiarato intento di portare via dei punti. Un obiettivo che le samitesi devono cercare in ogni modo di ostacolare. La classifica potrebbe farsi pericolosamente critica se dovesse esserci un altro passo falso per di più in casa. Nei giorni scorsi, dirigenti, staff tecnico e atlete hanno avuto un faccia a faccia finalizzato a fare ancora di più corpo unico. Lo stesso si spera che avvenga con il pubblico, chiamato a sostenere fino in fondo la squadra. L'obiettivo stagionale deve essere raggiunto e c'è bisogno dell'apporto incondizionato di tutti. Il programma degli incontri in questa giornata è il seguente. Santa Croce-Giaveno, Fontanellato-Soverato, Montichiari-Crema, Busnago-Loreto, Ponte Cagnano-Matera, Frosinone-Forlì, Cedat-85-San Vito, Rota-Mercato-San Severino e Sala-Consilina-Pomì-Casalmaggiore. La classifica, Giaveno in testa con 53 punti, Loreto, fresco di vittoria della Coppa Italia, 52 secondi in classifica, Crema-51, Casamaggiore-45, Santa Croce-44. Seguono Busnago-36, Soverato-32, Montichiari-31, Sala-Consilina-26, Frosinone-23, Fontanellato-22, Mercato-San Severino-21, Cedat-85-San Vito-18, Ponte Cagnano-14, Forlì-12 e Matera chiude a 9 punti. Hanno ancora da recuperare un incontro, Forlì-Ponte Cagnano-Fontanellato e Busnago. Bene, chiudiamo qui questa edizione del TireCB Sport. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci.